del gruppo storico romano. Io ricordo sempre che tutto quello che vedete è frutto del lavoro dei soci del gruppo storico romano. Il Natale di Roma è sostenuto da tutti i soci, che sono tutti volontari. Ricordo che potete anche voi sostenere l'evento acquistando la maglietta o la stiletta del Natale di Roma per poter anche voi partecipare a questi festeggiamenti. Salutiamo anche le impedriadi del gruppo storico romano, altra categoria perché ricordo il gruppo storico romano accetta soci tutto l'anno. Chiunque di voi può recarsi allo stand informativo per chiedere informazioni sulle iscrizioni per poter perché no studiare.